Dalla stagione teatrale alla stagione musicale con il sindaco Franco Polcri che è assessore alla cultura del comune di Sansepolcro, allora invitiamo la cittadinanza anche a questa terza edizione di Musica in Prospettiva. Sì, quando iniziamo Musica in Prospettiva avevamo dei dubbi, delle perplessità perché sapevamo che l'impresa, come poi si è rivelata, sarebbe stata onerosa e difficile. Ora però abbiamo visto che gli ostacoli sono stati superati e possiamo lavorare serenamente. E questo ci dà soddisfazione perché questa amministrazione ha voluto e vuole sostenere queste iniziative musicali perché da queste nasce anche, si rafforza l'immagine di una città, la sua tradizione culturale e artistica. E allora questa stagione che avrà una durata abbastanza lunga perché adesso ha la sua prima parte da venerdì 20 novembre a venerdì 11 dicembre, ma avrà un prosieguo anche in primavera poi. Voglio ricordare appunto il concerto che sarà dedicato al maestro Baldelli, dalla nostra banda musicale, la nostra filarmonica e poi i concerti di Roberto Toffi che interverrà non solo con i suoi concerti d'organo in cattedrale, e i concerti dell'attesa della messa domenicale delle 18, ma poi farà anche un concerto suo di cui mi deve comunicare il programma. Quindi una proposta intensa, forte e qualificata che mi sembra ormai si possa dire ha creato un costume. Ci eravamo disorientati dopo la stagione concertistica di alcuni anni fa, le due stagioni concertistiche, che ebbero un grande successo, ma poi non ebbero il giusto seguito per certe difficoltà nate che io non conosco nemmeno bene. Abbiamo proseguito e andiamo avanti con i nostri passi sicuri, in attesa che poi ci venga il contributo di qualcuno, il contributo di giovani che vogliono fare il concerto, perché noi saremo attenti anche ai complessi musicali che vorranno fare concerti sia di musica classica sia di musica contemporanea. Per cui l'esercizio della musica, che è un antico costume per noi, dovrà ritornare ancora più forte, perché ci interessa non solo la gioia del divertimento e del piacere della sera, appunto assistendo a questi concerti, ma soprattutto anche il piacere del servizio alla città.